Aspetto. Il maschio Lhasa Azzo dovrebbe idealmente avere 27 cm algarrese e pesare tra 6,4 e 8,2 kg. Le femmine sono leggermente più piccole e pesano tra 5,4 e 6,4 kg. Lo standard di razza richiede occhi marrone scuro e naso nero, sebbene i Lhasa color fegato abbiano un naso marrone. La trama del mantello è densa, diritta, dura, senza lana o seta, densa. Sono disponibili in un'ampia varietà di colori, tra cui nero, bianco, rosso e oro con una varietà di sfumature. Lhasa può avere, o meno punte scure alle estremità delle orecchie e della barba. La coda dovrebbe essere tenuta dietro la schiena del cane. Lo standard di razza attualmente utilizzato dall'american che nel club è stato approvato l'11 luglio 1978. Tratti distintivi del carattere. I Lhasa Atsu sono indipendenti, e anche molto leali e cercano di compiacere, tuttavia possono difidare degli estranei. Questo cane è classificato 68esimo, su 79, in The Intelligence of Dos di Stanley Koren. Il Lhasa Atsu è una razza longeva, molti dei quali vivono in buona salute fino a 20 anni. Una razza di cani allevata dai monaci tibetani diverse migliaia di anni, fa per proteggere i monasteri. Fino ad oggi, questi cani sono considerati sacri dai tibetani. Intellettuale, resistente, indipendente, molto calmo, ma severo nel trattare con gli estrani. Sono obbedienti al proprietario, sanno come difendersi da soli, fermare le molestie dei bambini cattivi. Ma tutto questo viene fatto senza malizia, con dignità e tatto. Punti salienti e fatti interessanti. Il Lhasa Atsu è stato riconosciuto dalla AKC nel 1935, ed è la novantasettesima razza del club. Il nome originale di Lhasa, era Atsu Senkai, il cane custode del leone che abbaia. Il Lhasa, insieme al Tibetan Spaniel, e al Tibetan Terrier, è una delle tre razze tibetane aborigine del gruppo non sportivo ed è stato il primo ad essere ammesso alla AKC. Tutte e tre le razze hanno uno spesso mantello protettivo e una coda all'insù sul dorso. I cuccioli di Lhasa Atsu maturano molto più lentamente di molte altre razze, e si adattano meglio alle nuove case dopo le 10 settimane di età. Sui Dam Kutting, naturalista e viaggiatore, è l'unico responsabile della fondazione, e della reputazione di Lhasa in America. I Lhasa servivano come guardie all'interno delle abitazioni in Tibet, mentre i mastini servivano all'esterno. Inizialmente, Lhasa Atsu fu mostrato nel gruppo Terrier, e nel 1959 fu trasferito al gruppo non sportivo. Storia della razza Lhasa Atsu è originario del Tibet. Questa piccola razza veniva usata come cane da guardia all'interno, mentre il più grande mastino tibetano faceva la guardia all'esterno. All'inizio del 1900, alcuni rappresentanti della razza, furono portati dai militari, che tornarono dal su continente indiano in Inghilterra, dove la razza fu chiamata Lhasa Terrier. La coppia americana originale Lhasa era un regalo di Tutendi Atsu, il tredicesimo Dalai Lama, sui Dam Kutting, che arrivò negli Stati Uniti nel 1933. Il signor Kutting si recò in Tibet, e lì incontrò il Dalai Lama. C'era solo un Lhasa Atsu registrato in Inghilterra a quel tempo. La razza fu inizialmente chiamata Lhasa Terrier, in seguito, Lhasa Atsu. L'american Kennell Club adottò ufficialmente la razza nel 1935 nel gruppo Terrier, e nel 1959 trasferì la razza al gruppo non sportivo. Alcune caratteristiche, che fanno parte del tipo di roccia, si sono formate a causa delle condizioni geografiche e climatiche. Alta quota, clima secco e ventoso, terreno polveroso, estati brevi e calde e inverni lunghi e molto freddi nella regione himalaiana. Tra questi ci sono le caratteristiche della testa, del mantello, degli occhi infossati, della muscolatura e della struttura corporea, la resistenza generale, e la longevità della razza. Oggi negli Stati Uniti esiste un gruppo unico di Lhasa Atsos, popolarmente conosciuti come Canigompa. Gompa è la parola tibetana per la principale sala di meditazione del monastero. Questi Lhasa Atsos sono discendenti diretti dellhasa Atsos del monastero di Drepung in Tibet, dove nel 1941 Lhama Ghenyeshe ricevette il suo primo dono di mantenere il futuro, reclutare il passato ascritto il Lhama Supremo Reincarnato. Negli anni 80, nove Lhasa Atsos allevati dal defunto Lhama Ghenyeshe, o da uno dei suoi cani furono portati in Canada. I loro figli, allevati insieme per diversi anni, sono stati infine registrati presso lo Unitec e nel club. Nel 2000, i rimanenti discendenti sono entrati negli Stati Uniti come parte di un salvataggio riuscito. Da allora, c'è stato uno sforzo organizzato per mantenere i cani e mantenere la linea. Il programma di conservazione di gompa Lhasa Atsos, organizzazione 501, è un programma di gestione della genetica di piccole popolazioni che perpetua la linea genetica di gompa Lhasa Atsos. Questo pool genetico unico, non selezionato dallo standard scritto, rappresenta Lhasa Atsos come si è sviluppato come razza locale. Un database interno contiene i ricordi tutti i cani utilizzati per mantenere questo lignaggio genetico e include il profilo del DNA, la verifica dell'origine del DNA, e l'identificazione del microchip. I cani nati nell'ambito del programma di conservazione continuano a registrarsi presso l'UKC. Nell'agosto 2011, 17 cani del Gompa Lhasa Atsos Conservation Program sono entrati nel libro genealogico dell'AKC. Lo scopo della registrazione dei cani di nuova introduzione dalla regione di origine, è aumentare la diversità genetica mantenendo l'integrità della linea di allevamento, manutenzione e cura. Lhasa Atsos fa bene su una buona poppa. Poiché di solito, hanno la pelle spessa, lhasa ha bisogno di una dieta ricca di proteine e grassi per mantenere un pelo spesso. Gli allevatori raccomandano alimenti con un contenuto di grassi superiore al 14%. La maggior parte di lhasa ama molto il cibo, e anche un po' di sovralimentazione, può portare a spiacevoli conseguenze per la digestione. Gli alimenti possono essere nutriti secchi o leggermente idratati con un leggero aumento di sapore, come carne cotta o cibo in scatola. Dare da mangiare una o due volte al giorno, è una scelta personale per i proprietari, ma i cani preferiscono la costanza, quindi si consiglia di mantenere una frequenza e un'ora del giorno costanti. I capelli lunghi richiedono una spazzolatura regolare utilizzando gli strumenti e le tecniche giuste. Pettinare almeno una volta ogni due settimane e dopo il bagno. È necessario un accurato risciacquo poiché i residui di shampoo irritano la pelle. I balsami e gli spray di finitura facilitano la cura della pelle. I capelli lunghi o tagliati appena lavati devono essere accuratamente asciugati e pettinati. Lhasa, di regola, non ama scherzare e sa tenersi occupato. Correranno per l'appartamento per ricaricarsi, potranno divertirsi nel cortile recintato o portare a spasso i loro padroni. La stimolazione mentale è importante tanto quanto l'esercizio. Sono agili, in grado di gestire gli odori e sono noti per i pesci. Ospedali, case di cura, collegie e carceri impiegano cani da terapia di talento certificati Lhasa. Lhasa Azzo è molto intelligente, e a volte, viene paragonata a un bambino ostinato. Possono imparare quasi tutto ciò che l'allenatore rende abbastanza interessante da padroneggiare. Non apprezzano l'esercizio ripetitivo e possono diventare insolitamente testardi se intimiditi o insultati. La maggior parte degli episodi di comportamento inappropriato a Lhasa riguardano situazioni di leadership umana incoerente o inappropriata. Questa è una razza per persone creative e motivate a cui piacciono i compagni di cani intelligenti. Salute. Il Lhasa Azzo è soggetto ad alcuni problemi di salute, ma è ancora una razza molto sana. Ad esempio, è suscettibile all'adenite sebacea, una malattia ereditaria della pelle che si verifica principalmente nei barboncini standard, ma è stata segnalata anche in un certo numero di altre razze, tra cui il Lhasa Azzo. Sono anche inclini alla trofia retinica progressiva, che può renderli ciechi. Gli allevatori responsabili fanno controllare annualmente i loro cani da riproduzione da un oculista canino per assicurarsi che non stiano sviluppando una malattia ereditaria nella loro prole. Lhasa Azzo è anche soggetto a condizioni oculari come l'occhio a ciliegia, e la cheratocongiuntivite secca, sindrome dell'occhio secco. Un sondaggio del Kennel Club del 2004 mostra che la vita media della razza è di 14 anni. Secondo la British Veterinary Clinic, la mediana è di 13 anni. Sebbene Lhasa Azzo sia considerato da molti un cane da compagnia, l'esercizio quotidiano, il gioco e le passeggiate sono essenziali per mantenere il benessere fisico e mentale. Prezzo e come acquistare correttamente. I prezzi di Lhasa Azzo sono determinati da Stato tribale, la purezza del pedigree, taglia, età, colore, genere. Il costo di un cucciolo di Lhasa Azzo varia da 800 dollari a 2000 dollari. Linea di fondo. Il Lhasa Azzo è una razza canina antisportiva originaria del Tibet. Era usata come sentinella interna. Lhasa è la capitale del Tibet e Azzo è una parola della lingua tibetana. C'è polemica sull'origine esatta del nome, alcuni sostengono che la parola Azzo sia una forma anglicizzata della parola tibetana per pizzetto. Può anche essere un nome composto che significa proteggere abbaiando.